... E allora siamo con una new entry degli internazionali d'Italia MX CD Series 2015, Philip Bengston che è una rivelazione del 2014 Il pilota che ha fatto sognare tutti a cavallo della sua KTM privatissima Con dei piazzamenti straordinari, soprattutto sulla sabbia Adesso pilota ufficiale di 24 MX Honda per tutta la stagione MX GP Hi Philip, how are you? Fine, thanks, and yeah, just like you said it's gonna be the first year for me in the MX GP season Together with the 24 MX Honda team and yeah, I'm super happy with the team and the bike And also the first time I do the Italian Championship But I think it's the best preparation for the GP season And it's a little bit muddy at the moment, but the sky is shining and yeah, it's gonna be a good day, I think Good, are you possible to see you on the sand in Ottobiano? I really hope so, the plan is to be there, so I think the track suits me better than this, so hopefully I will be there Great, thank you Allora Philip dice effettivamente è il primo anno che farà la MX GP tutta intera E non sarà solo una wild card, primo anno che corre con il team 24 MX Honda E primo anno che viene a Internazionale d'Italia, che per lui però si stanno rivelando un'ottima preparazione La miglior preparazione possibile per poi affrontare la prima gara del Mondiale in Qatar tra due settimane Philip che spera anche di essere a Ottobiano la prossima settimana su un terreno morbido, sabbioso Che a lui piace moltissimo e allora con l'ottimismo di Philip che dice il sole brilla, il cielo è blu Andiamo a vedere che cosa succederà in questo round di Castiglione del Lago